Da ex studente degli esordi di questa stupenda scuola non posso che ringraziarvi dell'invito, è stato per me un piacere e un onore venire e essere qua oggi, essere invitato oggi e confrontarmi con questi allievi e constatare che questa scuola è cresciuta tantissimo ed è un esempio per tutto il mondo, direi, una scuola eccezionale. Grazie di cuore.